Buon inizio di settimana per il penultimo giorno del mese di ottobre. Io sono Loredana e vi do il benvenuto nel nostro portale di informazione Notizie in un click, qui con voi per leggervi alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato e che andremo a pubblicarne ancora nel corso della giornata. Quindi, come dico sempre, se vi va rimanete con noi. Attualità boccia, governo fa cassa con il taglio delle pensioni dipendenti pubblici. Giotto Fontana, lo spazio d'Oraman, museo dell'arte in provincia di Nuoro. La scuola è chiusa per l'allerta meteo del ciclone di Halloween. Siamo in provincia di Roma, Darsoli, una crociade viene investita ed uccisa. Amato, cassese e violante, i tre grandi vecchi che proteggono la Meloni. Estero, Netanyahu si scusa con le forze della difesa, ho sbagliato. Per lo sport, l'Inter, se giudica la partita contro la Roma, Toram segna su assist di Di Marco. Questo e molto altro potete trovare nel nostro portale di informazioni. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima mini rassegna loredana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.